che dico prendimi a prendimi a inutili sito web per favore clicchiamo su per favore e e mi esce da dei siti e mi mette dei siti su dei mi porta su dei siti tipo stranissimi ma che roba è cioè io mi ricordo che c'è un'applicazione sto verme qua oddio santo dio sell me a nothing work android tool 3.0 io me la compro io me la compro raga cioè quindi mi porta la del cerotti raga questi sono bellissimi cioè ma cosa sono bellissimi ma raga che belli io ebay ok portami su ebay carne unicorno in scatola ok ma che cosa ho visto raga c'era scritta una cosa brutta mangia no 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 rago no perché mi escono queste cose brutte questo non è brutto è un horrendo cioè che cos'è bicchieri bicchieri perché ho deciso di fare un video di questo ne farà altri 10 ma che bellissimo rovere be punto ma che schifo torniamo qua prendimi ad un altro inutili sito web che cos'è no c'è hey aspetta c'è il volume no hey oh hey oh hey oh c'è rag io non lo so smash them vuoi dire che io devo si è buggato ah ok vuol dire che sono le pareti rimanenti no raga è uno scherzo no sono le pareti che sto rompe le pareti rotte in tutto il mondo cioè tutti cioè praticamente le persone al mondo credo di no no non è così no non sto capendo endless punto horse c'è raga il cavallo più alto del mondo canno tu edis can't not tweet this can't not tweet can't not l'ho toccato twitter quindi c'è twitter che si sposta mi piace raga immagini che i tuoi social si stanno aiutando la checca immagini ma cosa me ne frega ma che devo fare immagini cosa direbbero non c'è scritto niente cioè si capisce niente immagini che i tuoi social si sposta e quindi non c'è non c'è non c'è è un avocado c'è un mango scusate posso ingrandire su un mango ok per favore coala strade cos cos questo c'è cosa ho fatto ma a che sta succedendo koala si chi è che sta c'è ma chi è che crea ste robe c'è una cosa di è un quale c'è c'è coala capito inde cosa però ci vediamo koala sinde e ok corndog.io mi sto sentendo bene se tengo premuto una lettera se tengo premuto il nerolo se tengo premuto l'r dice la g sono una persona soddisfatta cat bones.com bass bass puntocom ragazzi mi sta prendendo stop inutile c'è sto web sito inutile sotterrami con i miei soldi c'è sto terrami con i miei soldi c'è a rio c'è sto terrami con i miei soldi random color c'è niente qua c'è il nero c'è niente qua c'è niente qua c'è niente qua c'è niente qui ok che sta succedendo c'è niente qua c'è niente qui c'è niente qui c'è niente qui ok raga un'ultima cosa oh what felice devi essere felice lo so che non vuoi che concluda il video ma si felice ok se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi e noi ci ci vediamo in un prossimo video ciao e vabbè ciao